I consiglieri regionali e parlamentari abruzzesi del Movimento 5 Stelle e del PD hanno aderito al manifesto per un corridoio intermodale tra la penisola iberica e i Balcani. L'adesione è arrivata nel corso di un incontro online a cui oltre ai rappresentanti istituzionali dei due partiti hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali promotrici del manifesto che in Abruzzo rappresentano il mondo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, della cooperazione, dell'industria, servizi e turismo oltre che del mondo del lavoro. Tra gli interventi nel corso dell'incontro organizzato dal segretario del PD Abruzzo Michele Fina, quelli dei consiglieri regionali e dei parlamentari Luciano D'Alfonso, Gabriella Di Girolamo, Carmela Grippa, Sara Marcozzi, Silvio Paolucci, Stefania Pezzopane.